se Daniele è il c***o io non passo tutti i giorni a fargli buuuuuh manca solo quello forse una volta sola come potresti farlo essendo che è una forma di comunicazione e lo è, non c'è manco bisogno di metterla sul poetico ecco tu faresti questo sicuramente ogni giorno passeresti davanti alla mia camera quando c'è la porta chiusa e diresti ah guarda che sta dormendo facendoti sentire come quando stava succedendo a Panetti cosa? che cosa è successo? a Panetti? forse 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 non è il caso di parlarne forse ma io conto come un qualsiasi essere umano tu conti come te stesso quindi vai via è colpa di Daniele cosa? mi ha detto lui di fare lo stesso sussu qua che c***o stai dicendo? per riprendere l'amicizia di Panetti io faccio questo discorso qua allora innanzitutto pezzo di merda figlio di puttana forse anche oltre che pezzo di merda non è vero secondo è vero grande Marco grazie ragazzi Simone mi ha mandato un messaggio in cui mi ha detto ti odio e io l'ho chiesto perché e poi mi ha costato una vita costellata un po' di tempo fa ma non mi risponde manco no basta non mi ha risposto però io non ce l'ho con lui io lo amo sempre forse è questo il problema che io lo amo troppo lo amo troppo